Mi chiamo Paolo Carlo, sono venuto a tenere un corso a Skill Lab per le nozioni di primo soccorso per le persone che partecipano a questi corsi formativi. Nozioni di primo soccorso in particolare è quello che faccio io su BLS, come si fa una manovra in animatoria in caso di un paziente che venga a resto radio respiratorio. Siamo allo Skill Lab, stiamo facendo il corso di primo soccorso per le aziende, è un corso molto interessante che consiglio a chiunque abbia intenzione di farlo perché ti insegna delle realtà e delle cose che possono comunque sempre tornare utili nella vita quotidiana.